È stata una buona partita, sono molto contento della risposta della squadra. Abbiamo concesso pochissimo, forse un'unica occasione, abbiamo rivisto il rigore e onestamente se fischiano quella roba lì devono fischiare tanta più roba, quindi mi dispiace che hanno fischiato un rigore così generoso e quindi non abbiamo concesso praticamente niente, è una squadra forte. Ci siamo ritrovati, ho rivisto la squadra, per cui lo sono contento, ho rivisto l'aggressività che era iniziale di questa squadra, quindi sono molto contento della prestazione. Pedro ha qualità, in questo momento abbiamo necessità di farlo giocare da terzino, lui ha dato una grande disponibilità, si è visto, è un momento, so che rende di più davanti, lo so, lo sappiamo tutti, però nelle ultime partite in cui abbiamo avuto problemi col terzino destro, ho provato a schierare, non sono ancora pronti e non siamo andati tanto bene. Abbiamo preso un palo interno che io credo che 9 volte su 10 quel palo lì va in gol. L'unica occasione in cui abbiamo concesso a una squadra forte come l'Avellino un rigore dubbio, secondo me, l'ho rivisto, ripeto, dispiace che danno un rigore del genere, mi dispiace molto e quindi non so se è da presuntuosi dire che meritavamo, però per me sì, per quello che ho visto in campo. Poi a livello di gioco giocavamo contro una squadra forte, non credo che noi avevamo le potenzialità, visti anche tanti giovani in campo di surclassare l'avversario col possesso palla, quindi sì, credo che oggi meritavamo di vincere, ma per quegli episodi che si sono visti. Forse la gestione di qualche dettaglio nel primo tempo, abbiamo fatto troppi falli secondo me, questo è l'unico aspetto che mi sento di dover parlare con la squadra, si può sempre migliorare in tutti gli aspetti naturalmente, però questo dei falli, secondo me, loro erano molto bravi nelle palle inattive e abbiamo, secondo me, rischiato troppo, subito troppo, perché poi quando arrivi in aggressione e fai fallo è un problema, l'aggressività non significa fare falli, quindi il primo tempo si sono fatti troppi falli, secondo me, che bisogna migliorare quell'aspetto, ecco, quello mi sento di dover dire alla squadra. Mi piacerebbe la vittoria perché a questa squadra manca, oggi siamo andati a molti vicini, credo che la vittoria passi dalle prestazioni, però non è sempre così, le squadre forti sono le squadre che vincono anche giocando male e quindi sarebbe il massimo riuscire a portare a casa i tre punti, non c'è la fase. Io sono convinto che se noi manteniamo questa intensità, da questa intensità, da questi recuperi della palla nascono tutte le nostre azioni, nasce tutto il nostro entusiasmo come squadra. Peccato che non ci sia il pubblico perché questa, secondo me, è una squadra che con il pubblico, secondo me, andrebbe ancora più forte perché questo tipo di gioco è un tipo che ripete entusiasmo, è un gioco che insieme al pubblico, secondo me, i ragazzi all'interno del campo prendono coraggio e prendono entusiasmo in quella voracità nel non far giocare dell'avversario. Abbiamo parlato con la società e per questo girone di ritorno la società cerca di fare più minutaggio possibile. È una politica che condivido perché abbiamo dei giovani forti. C'è stato questo confronto con la società e credo che sia anche una cosa giusta perché abbiamo giovani di valore. Oggi abbiamo giocato con la coppia centrale, due ragazzi del 2000. Non so quante squadre azzardano questo tipo di difesa, ma io sono contento perché i ragazzi sono bravi e quindi è una scelta che abbiamo condiviso con la società.